e rieccoci qua di nuovo live su Twitch benvenuti a tutti benvenuti in GoItalia andiamo stasera a esplorare di nuovo il mondo di Loniccio, di Lonico, fermate all'altezza parte ok sto aspettando la notifica della venuta diretta ok è arrivata perfetto quindi io direi di partire ci siamo siamo live e andiamo in forse sigla ragazzi ogni volta con il suo visore ci vorrebbe un deck virtuale non so se esiste ma comunque si va ed eccoci qui partiamo partiamo dai partiamo direi che è tutto a posto mi sembra tutto a posto quindi partiamo ok la live è a posto continuiamo e vai oh 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 spostiamoci no non ci possiamo spostare ok ok avevamo appena finito questa missione eccoci qua nello spazio più aperto possibile andiamoci a recuperare con la vicella ok eccoci qua ok eccoci qua eccoci qua eccoci qua non ho capito questa cosa ah forse c'è la batteria la batteria si si è la batteria di questa cosa ok no accucciamoci accucciamoci un po' troppo ok allora ci facciamo le missioni in ordine e quindi se ricordo bene ah abbiamo un po' problemi con l'energia aspetta andiamoci a ricaricare non è mai che mi sono accorto in tempo vedete eccoci qua carichiamo la batteria ok ok allora missioni le vediamo da qua ok allora contenere i field option card scan ok questo ah 7 su 9 ok quindi ce ne mancano un po' vabbè voi vedrò su internet dove stanno che lo fa ragazzi c'è un casino ok ops stavo dicendo allora get scan from labor unit head on the procession line get scan data from labor unit get scan labor unit head e quale sarebbe s 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 F7 io credo che siano container of field non è card scan labor unit head non credo non credo che possiamo ad entrare però ah lì ah interessante vamo vamo eh ma non possiamo entrare da lì che cacchio è successo oddio santo necessaria la riposizione è merda vabbè e scendi vabbè siamo a spatte si gliccia tutto ok in realtà era proprio da dove siamo responati un casino vabbè possiamo struppare facciamo qualche danno no questo è il door control non ci interessa dovuto inquietante andiamoci là andiamo in traiettoria quali pezzi di robot stiamo avvicinando ecco qual pezzo andiamo scendiamo vediamo se riusciamo a prenderlo oh no oh no ok caz direct connection established synchronizing data stream nav data purged chronos uplink lost executing last known command collision detected damage report unavailable lower limbs non ambulatory upper limbs non ambulatory excessive command feedback critical failure all systems shutting down ok rimani qua non te muove non so se bisogna ancora di te no non se e vabbè sti cazzi e vabbè non riusciamo ecco così adesso fosse meglio no ok quindi qua container field ok quindi abbiamo adesso il container field e primary exit ok possiamo uscire quindi torniamo indietro altri obiettivi al momento non ce ne sono questi copri li vediamo di qua se può uscire no non credo comunque ah sì vaffa ok bene quindi andiamo al container field oppure prendiamo questo vediamo il primo spero questo è selezionato vabbè possiamo anche fare così giusto ah ok lui giustamente ok vabbè quindi andiamo sul premier dei site ok vai vai eh perciò un po' l'entramento in realtà ok va bene esatto vai a perciò 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 e ok ok quindi andiamo alla primary dig site mettiamo per i saldi ma un attimo ok ok approcci primary dig site any sign of activity whole site's gone dark and we need the comms array there to boost the data buffer from our sensor suite all systems appear offline emergency lighting only damn well clearly something went wrong here angel i'm sensing the pattern no kidding that should be the new chronos to mission patch just something went wrong in big bold letters anyway better get to it let me know what you find ho visto un cubo per cui spero di non aver visto male non vedo più maledizione dovevo scendere quando potevo ah lì è la terra quindi non siamo molto distante sulla terra infatti cos'è eh sì infatti mi sembrava eh però non lo vedo più porca miseria quello credo che sia quello è manso eh l'ho visto un attimo e poi tanti saluti no eccomi soppesso te poteva torniamo 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 ah uno c'è là uno sta là uno l'abbiamo beccato tiriamo la doccia cosa? oh porca putt c'è la radiazione qua eh ho capito non me l'aspettavo stiamo beccando radiazioni come se non ci fosse un domani è proprio lì il problema è un casino ok volete recuperare un ottimo è tutto l'asteroide pieno di radiazioni di mortacci non da lava porca miseria non c'è non c'è non si sa e torniamo alla primari dig site ah destinazione primari dig site preparando per il thruster ignizion per favore guardate eccolo ahhh ho fatto un casino un po' uscito dal gioco ma perché non ho capito perché comunque vabbè tanto non è che abbiamo fatto niente di che no aspetta però se devo scansire scansire la testa di nuovo mi rompe no vabbè no vabbè sti cazzi eh non ha salvato è un disastro i salvataggi di sto gioco sono un disastro un disastro proprio dire poco che è un disastro vabbè andiamo a velocemente adesso già sappiamo cosa dobbiamo fare c'è bisogno non c'è bisogno last known command collision detected damage report unavailable lower limbs non ambulatory upper limbs non ambulatory excessive command feedback critical failure all systems shutting down non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ce la faremo stavolta. Appena lo vedo. Eccolo. Eccolo. Si è pezzo da solo sto coso? Sogozo. Eccolo. 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 sotto. Eccolo. 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 And Dante. Abbiamo. Eccolo. 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 più no non ci credo ecco qua a dove vai nome online 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 usiamo da aspetta che non lo prendo ciò che mi sposto è sì sì sto per morire ok no 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 ok ok adesso si abbiamo scansionato no 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 dobbiamo investigare ecco no 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 la ombra qua sotto sembra di sì molto inquietante le stesse ruote tra l'altro io non vorrei avvicinarmi più di troppo ecco qua è partito ma in realtà già ci sono stato sotto non c'era null'altro c'è dell'interferenza è tutto giusto poco poco di energia e anche qui credo no qua no non lì sotto in quel punto lì un attimo un attimo ne abbiamo beccato un altro bene fermati questo che cos'è ops non c'è nulla lo lasciamo perso se ci ricordiamo che l'abbiamo esplorato anche qua non c'è nulla andiamo lì qua vuoto è vuoto vuoto tutto vuoto qua come siamo messi le relazioni ok 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 è tutto abbastanza inquietante anche senza zombie o altro oh oh eh vediamo un po' eh vabbè sti cazzi l'abbiamo ok l'abbiamo qui oh ecco ecco l'abbiamo ok adesso vabbè morì porca so vabbè morì male Ah... Eh, va bene. eh sto per morire sono morto sono morto sono morto eh non ci posso fare niente forse ce l'ho fatta giusto giusto forse ce l'ho fatta oh è incredibile a culo però il gioco si sta cominciando a fare cattivo parcazzocco o'errore comunque non ho recuperato al 100 per cento vedo tutto usurato come se ci avessi dell'acido eh ma non so che faccio vediamo un attimo forse dobbiamo recuperare delle batterie dobbiamo far pensare a quello veloce non lo so eh vabbè ma si cazzi però eh vabbè can you get a scan of the generator core as well that's the most likely culprit non so che cacchio devo fare non so che cacchio devo fare Shields at 30% We should postpone further construction on this site until we can fully assess how the anomaly has affected our equipment I will probably spend my last week here just doing a full assessment of the station at this rate you know assuming we can figure out what that anomaly is in the first place wow ma forse non è che la devo prendere lì la batteria può essere magari no oh si si eh si adesso lo potrò sostituire ah però è giusto credo che e ora adesso non c'è più energia giusto? no e da dove la prende se vabbè non l'indaghiamo oh dove sta? ma se ho perso la batteria di mortacci tua dove sta? oh Dio santo giusto? giusto? oh giusto? giusto? ... giusto? ... ... ... ... ... ... ma non si toglie e perché non si toglie via l'ho beccato già grazie del suggerimento miglio di una botta e va bene però così non ce la faccio si abbiamo fatto incastrare il botto Reboot initiated Shields at 95% I've located this site's labor units They're unresponsive Damn Try giving them a scan Maybe that'll tell us what went wrong Poveretto Ok E non lo tocchiamo più E' rimasto un attimo Please Ah infatti adesso è più nuovo Va beh Andiamo a recuperare un po' di energia E' forte che rimangono i miei cadaveri Questa è una cosa molto molto forte E' un po' di energia Vabbè, ce la facciamo abbassare. Fa tempo io galleggio il mio cadavere che galleggia. Allora... Vediamo che c'è qua sotto. A volte si incasina completamente quando fai qualcosa che non è proprio che non gli piace. Con dei pezzi di ricambio ma non so se mi servirà con niente. Che dice? Vabbè. Che cacchio... Ah, c'è uno scudo adesso che si è creato. Ah, ok. Questo coso ha generato uno scudo intorno alla struttura. Per cui adesso mi proteggerà. Quindi questo coso qua. Ok, un attimo. Ok, andiamo a scanzionare il generatore. Un generatore di fusione. Più che capabile di poterlazionare l'interno digsite. Ok. Based on the radiation, I bet that generator has a damaged core. Look for a maintenance panel that you can cut open. Ah. Ok, quindi presumo che sia qui. Perfetto, perfetto. Si taglia. Finalmente. Forse. Allora tu, bloccati. Ok. Poi cominciamo a tagliare. Vai. Guarda se puoi ottenere il generatore, Jack. Abbiamo bisogno di guardare dentro. Ho capito. Lo so fare. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Anche. Perché? Ma perché? e ho capito però così non va bene How could it discharge that much energy so quickly without exploding? Better jettison it Jack. Shields at 30%. Looks like the dampener lost power. I should recharge the battery of the fury transport. Ah! Ah! Ok e quindi devo fare una cosa rapidissima ma non ce la farò non ce la farò e va beh vedete è stronzo. Looks like the dampener lost power I should recharge the battery of the fury transport eh ho capito ma stronzo cioè che devo fare? Eh non se tira che devo fare? Seconda security brace released. Manual ejection sequence online. Shields at 50%. Eh non si toglie ragazzi che devo fare. Shields at 30%. Fuel rod jettisoned. Generator systems offline. Radiation dissipating. That core seems to have been the only source. Good work. Now just get the generator a new fuel rod and re-engage the locking mechanisms. There should be a spare in the site's core enclosure. Ah ok. New core acquired... returning to the generator New core acquired returning to the generator. Guida Grazie a tutti Come? Come? Ah ok, cosa così? E quindi? Ho finito la missione? Siamo a posto così? Siamo a posto così? Ah E che dove va? New labor units Hmm Ringhi And E' 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 devo capire, a parte i cubi che stanno sentendo i nuovi questi cazzi lo devo assemblare ah vabbè, i pezzi stanno qua, questo è il braccio, resumo sinistro ah no, la faccio adesso io che sembro a me stesso il braccio, resumo sinistro ok ok si ma scusa ok ok faccio un altro ma che sta a fare questo ah li devo vabbè devono lavorare devono faticare eh vabbè ciao sti cazzi scordo sempre di bloccarlo dai dai muoviamoci muoviamoci dai dai non perdiamo tempo no ma perché questo lo mette di qua cioè sei stronzo lo sai ok 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 Grazie. Aumento catattico nel gioco. Vabbè, però così non andiamo in stima parte. Dovrebbe essere tipo magnetico, che a un certo punto, però non lo fa. Eh, ma io questo già l'ho messo a sinistra, quindi sti cazzi. Allora. Così non va perché sta all'indietro, tipo, però... A noi piace così. E questo qua invece... Allora sarà così. Ok. Assembliamo Robo stasera. Ok. 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 Se mi fa la grazia questo... Va. Ciao. È andato via. Eh, mo? No. Ma che figlio di puttana! Ho preso per i piedi lateralmente. No, questa parte non è fatta benissimo, eh. Posso dire che questa parte non è fatta benissimo. L'intento è ottimo, ma il risultato è scadente. È perché io comunque devo stare a una certa distanza ravvicinata, però... Ok, abbiamo una missione aggiuntiva. Ok. Ok, abbiamo una missione aggiuntiva. Ok. Ogni fine... O cho amici non vuoi. Abendate ma un passato, così. L'essesso, ho preso una nuova. Di ogro da usato la radostritta grande, e bend tremmi da parola. E sei che il risorsa alla chi taxa c'è했어 risposta a secondo degli anziati, T' That fuel rod was completely inert It should have been good for another century before it burned out Something very strange is going on here We have understood that they are extracted materials and then they are in the office, we are literally in an office, in a factory This mola is taken here, it is taken, it is interesting, it is in the process comunque assolutamente ecco come lo sta assemblando lo sta portando a destinazione è che l'ho posto dove abbiamo visto che partivano i blocchi ma dovrebbe andarsene via vabbè non ci perdiamo in queste cose e find a mission ok attiviamo quindi è qua dentro andro e vor andro e vor sta sotto? dice sotto? ma sarà morto? ma sarà distrutto? questa zona è ancora ricca con il Helium-3, non l'abbiamo in un tempo no, che è questa roba? ehi non lo so, core processing unit ok, vabbè non so dove cercare in realtà com'era? vicino al casco le luci, sto dando le botte a me non si accende però eh, non si accende, che ci devo fare? ok, si è acceso in qualche modo guardiamo malissimo cercando questa cosa io credo che sia da là sopra, ci sarà qualche buco, una caverna non so ok 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 cercando ok 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 e come siamo messi con i cubi 4 su 6 vabbè mentre già so che modiamo malissimo però almeno abbiamo scoperto il buco eccolo qua no 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 No, 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 no. mattino allora questo qua oppure va così aspettiamo ok ma mi smonto io no non può essere così così non può essere no ah ok no così non può essere perché non ci va quindi deve essere però così manco ci va questa cosa non si può levare no sembra di no ma si è incastrato sta cosa non potevo metterci la scritta left or right ok 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 c'è un altro pezzo pure là ok 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 stessa logica eh vedete gira però gira per cazzo i suoi vabbè vabbè compadre che adesso ci siamo ok braccio sinistro faccio prendere braccio sinistro faccio prendere braccio sinistro perché non ti metti aspetta penso che questo vuol dietro esatto oh ok Affirmative. I feel lovely. Just lovely. How are you? You have definitely sustained internal damage. Negative. This unit is operating at 10,000% efficiency. As you can see, the bridge is in excellent condition. This is a cave. Negative. 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 This is the bridge. I recommend you schedule yourself for maintenance, Echo One. You're being very negative. Liv, I've found the missing labor unit near the primary dig site and, well, it's disoriented. What the hell do you mean by that? Is that Captain Rhodes? Are you speaking to Captain Rhodes? Please tell her that I am nearly finished clearing her browsing history, as requested. Maybe you should just leave it alone for now. That may be for the best. Unit 38, you mentioned browsing history? I am sorry, Echo One. That is a classified assignment given to me by Captain Rhodes. Please wipe your memory of that conversation. I want to say, for the record, that I never told her to do that. Is that Captain Rhodes? Please tell her... Jack, please. Please stop talking to that android. Unit 38, status report. Status, still lovely. Oh, so lovely. alal сказала. páginahem are on the right side. lid is on the right side. I look at the favor. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamocene via. Andiamocene via. Andiamocene via. Ah ma adesso forse non funziona perché abbiamo tolto il... No. Andiamocene via. Ok andiamo a vedere un attimo com'è la situazione missioni. Rimane solo il container field al momento. Facciamo anche questa. Destinazione container field preparing for thruster ignition. Please hold on. Yuhu. We need to track down the source of the radiation, Jack. We need to track. We need to track. Eccola. T'ho beccato, figlio di una botta, t'ho beccato e fermati. Boh, peccato. Eeeh, ma sono le batterie che stanno... Oh, ho cominciato a dare numeri. Ok. Questo non lo conteggi? Me lo conteggio almeno questo, per piacere. Quattro su cinque. Sette su nove. Quattro su sei. Due su... va, 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 va. Allora, torniamo qua. Mmm, bene. Questa non fa casino. Guarda, a parte vedo una qua. I can use my scanner to pinpoint the source of the radiation. Quindici. Quindici. Non è buono quindici? No, forse no. Eh, sì. E' qua, è qua. Eh, vabbè, però già stiamo morto, male. Radiazione di absorzione a 30 desigradi e inclinamento. Agitati deuterium ions detecuti. Deuterium? E' un isotope di hidrogena. Come si è finita in uno dei nostri contenuti Helium-3? Non è chiaro. La linea di processamento è configurata per rubare nessun exceso di hidrogena. Ah, sbagliato. Per ora, parliamo solo con la contaminazione. Dispaccio una furia per eliminare l'irradiato container. Wait. Something's wrong. What is it? I... I can't get the Fury transport to decouple from the container on the upper rack. I can throw the manual override on the Fury's hitch. Standby. I'll make my way up there now. Inha. I can do it. Oh. Ulancho panel danni Mobile. Accuracazione. Capizondarea. 3% improvement. Obstacle navigation, 37% improvement. Tactical decision-making, 31% improvement. That'll do, Athena. The Fury's stuck on the upper rack. Throwing the manual override should get it in the minigame. ...units outperformed USN Marines by every metric in obstacle courses and tactical simulations conducted in Zero-G. Now, I know what you're thinking. That's well and good. But can these units think like soldiers? Can they adapt to changing circumstances, communicate, and work as a team? Well, if you'll follow me, you'll be able to witness a live combat simulation in our viewing lounge. And see for yourselves. Now that I have enough information, I should transfer these logs to live through one of the CubeSats. ... ... ... ... ... ... ... ... capire bene comunque mi sto avvicinando all'obiettivo devo fare molto piano, devo fare molto piano per evitare un po' di male devo prendere sempre, che devo fare? l'autopiloto è likely to kick in, so either get clear or find something to hold on to Unlocking this hitch will release the fury transport Furry hitch released Autopilot is taking over, so far so good quindi? quindi? oh merda no 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 Ma il container è stato bruciato. La contaminazione è spredita. Beh, questo non è stato fatto come prima. Ok, ho un'idea. Se avessi il container del maglox, la Fiori dovrebbe farlo. Oggi, se il controllo è stato rispondito. Tu sai cosa? Scrivete. Cosa la potenza, potrebbe farlo. Considera il damage, sei sicuramente è vero? Vero? Definitivamente non. Ma non funziona? Solo una forma di trovare. Ah, vabbè però io morirò così Eh già, già aumentato Eh vabbè ma è impossibile Entriamo sulla navicella C'avrà il coso Un po' però C'avrà il coso 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 I'm really not sure It's moving erratically Veering wildly off its flight path Could be a problem with the Fury's flight dynamics Hmm, probably just need to reset the navcom If you get a chance, would you mind looking into it? Copy that And I'm not sure, but I think we might need to resynchronize the container fields inventory control system Are these issues urgent? Eh ho capito, bello veloce però Io sono lentissimo Guarda come sono lento io C'avrà il coso 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 Ok, nel frattempo ci carichiamo un attimo Ok, abbiamo bisogno un po' Giusto? Un po' Ok, questo abbiamo detto lo lasciamo qua Giusto? Non è per fiducia Non è per fiducia, però Giusto per... No, ok C'è un po' Ok Ok Ho preso gli obiettivi Ho preso gli obiettivi nel frattempo che ci muoviamo Ho preso gli obiettivi nel frattempo che ci muoviamo Ho preso gli obiettivi nel frattempo che ci muoviamo Ok Un attimo Un attimo che non ce ne so capire più niente Allora Io ho attivato solo questo perché se volessi attivare quest'altro Ok Boh Vabbè Andiamo, andiamo, andiamo velocemente Allora Seventi secondi to scan the other two If you don't make it, the system will reset and you'll have to start again Woah That's one Clock is running, seventy seconds Eh, vabbè È impossibile Fifty seconds remaining One more to go 30 seconds remaining No One more to go Three seconds remaining Tap Ten Nine 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, success! Inventory control station synchronized. That was impressive. It wasn't all that difficult. After all, I was specifically designed to handle these types of demanding situations. Plus, you're incredibly modest. Thank you. All inizio sarebbe stato impossibile, no? Perché ho preso confidenza e quindi... Si poteva fare anche meglio, eh? Attenzione! Sono abbastanza scasso in questo gioco, però, su, anche perché... Si è online? Ok, ehm... quindi... è rimasto solo questo. C'è 4 su 5, 7 su 9, 4 su 6, 2 su 6... Eh, non lo vedo l'obiettivo, però... Usciamo da qua. Oh! Non lo vedo. Forse sta sopra? Comunque è selezionato, è attivo. Dovrebbe essere... Dovrebbe essere... Dovrebbe essere... Vicino... Però non so dove... Non mi parla, non mi dice niente. Ben... Oh! Oh! Grazie a tutti. Ok, qua non c'è più niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non vedo nessuna luce che si accende e si spegne. Non so. 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 Se qualcuno. Non è palazzo. Non so. 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 Array. Aspetta, avvenzio prima, devo abilitarlo. Ah, ok, posso attivare tre cose. Ehm, quindi, o così, o così, o così. Ehm, mi ricchiare. Root, attivare il sensor, poter il sensor, poter il sensor. Root power to the sensor. Non ho assolutamente idea. Non ho assolutamente idea. Non lo so. Non lo so. Non ho capito. Dove fa? Questo cos'è? No, questo è un contenitore, non c'è niente sicuro. Aspetta, però... Ci sono dei fu... Ah. Ma che mi servono? Non ho capito. Ah. è di là l'anomalia sta salendo 92 92 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 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 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 Array Liv, Array is realigned, can you confirm? Liv, do you copy? Do you hear that? What the hell is this? Nothing good Liv, Olivia Jack, I need you Find a fury transport and get back here now Ah Bene Se si ritorna al luogo chiuso, non lo sapevo Il mercato non potesse salvare questa parte però Vabbè Quindi Mi sembra evidente Che non c'è più nessuna missione, giusto? Eh Living trouble Oh Oh Select your destination Que succede? Basta andando, non? Jack, over here C'era Emergency services on site, clearing area Cosa? 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 Grazie a te! Si è cambiato! Capitano Rhoades, Sipret, por favor. Automaticamente protocolli non funzionano. Mi sono spettato tra trolle e rile. Poi vedere un modo per me fuori? Detta il ca- It's trapped beneath a cowl. The access cover. If you cut through the bolts, we can get a look inside. Caution! Deranged robot throatsωprie in the area. Fii! Look! The anomaly is changing. What the hell? Jack, have they seen me?! Oh god! Shit! Incoming! Jack cut the panel. 不会! That way is gonna- That's it! You got it! No, è finito, ciao, sono morto, salve La spesa di anomalia temporale, se ho capito bene Oh Proximity alert, proximity alert, proximity alert Good morning Echo One, it is encouraging to see you have finally recovered Hera, what happened, where is Liv? Station has suffered extensive structural damage from the debris field My program was forced into hibernation mode shortly after Captain Rhodes' departure Departure? Where did she go? Captain Rhodes did not specify a destination However, the captain did prepare an emergency beacon You will find it nearby Emergency beacon, got it, I'll have a look I'll have a look Accenditi, merda, non si accende la touch Ok, mamma mia, mi vuole una difficoltà Che che sto cosa? Mayday, mayday, Titan Commander if you're out there This is Captain Olivia Rhodes Kronos 2 is lost Say again, my station has been compromised We were hit by a debris storm caused by the arrival of an unknown vessel in our sector Damage is catastrophic Honestly, it's a miracle I'm alive I'd never have made it if Jack hadn't cut me free But he... He won't reboot He's gone I can't stay here Main power's offline, we've lost atmosphere Radiation levels are climbing fast I've no choice but to take my chances aboard the unknown vessel It's a long shot, but if there's any hope I might be able to survive on that ship I have to try Titan Command, if you're receiving Hell, if anyone's receiving Come find me Hera, are there any fury transport still operational? Affirmative Reroute the nearest transport to the station airlock I'm going to find Liv Well Bell casino They are closed They are closed I don't know what the hell is going on Oh my god Oh my god Oh no No Porca putt Dove cazzo devo andare? Un aspetto, un aspetto Allora, scroll like chiuso Hera, open the activation bay doors Eh, infatti Echo 1, I am obligated to inform you that leaving the station is a violation of Atlas Protocol The captain's safety is my highest priority, is it not? Affirmative The captain's safety is my highest priority, is it not? The captain is in danger It is my responsibility to help her Now please, open the doors Hera, can you locate Liv's transport? Negative Sensor network offline What if I were to repair one of the satellites? Affirmative A single sensor pulse from one of the satellites would likely be sufficient Then that is our first stop The fury transport is waiting for you outside Echo 1 Hara, I have a visual on the fury, is it ready to launch? Negative Detecting hazardous levels of radiation Fury controls are currently locked in accordance with Atlas Protocols Please activate the transport's radiation dampener before departure Non so, so capito la mazza Shields at 30% Shields at 30% Ok, un attimo recuperiamo forse Spero, 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 spero Voglio sperare Ok Ok Shields at 95% Debiti field activated Acknowledged Long range sensor satisfied Satellite located Plotting course Alright Let's go find our captain Alright, let's go find our captain Destination Non lo so Qua mi dice solo sensor E quindi penso qua Destination Sensor satellite A2 Preparing for thruster ignition Please hold on Ma questa non è la nostra nave L'immortacci Che cazzo sono soggetto? Alieni Hara Herro Statistica Preparazione Perfetto Satellite Perfetto Perfetto Aller Quasi Perfetto Quasi 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 seguire l'investigazione aggredi begin new log entry aggnowledged fine leave repair the sensual state investigator unknown soon i'll need to get closer to examine it ok sta messa un po' male sto satellite messo veramente male ok this debris is not part of the satellite it must have come from the unknown vessel oh we're some best shields at 95% scan data received standby amino organic compound it should be obligated to Intact peptide bond. Minimal cellular activity. Preliminary analysis. Dormant biopolymer. Origin unknown. Hmm. Doesn't seem dangerous. It does not appear to have survived the vacuum. Advise using your reactive cutter to acquire a sample. Ah, ho capito. Votiamo appena possibile. Votiamo appena possibile. Advise using your reactive cutter to acquire a sample. Avvira === Yep. Strange. Herra, did you see that? The substance appears to have been provoked by my reactive cutter. Acknowledged. Logging interaction. Unfortunately, this means I won't be able to procure a sample. Investigation complete. Logging all observations of the biomass under the heading, unknown biological threat. Very well. Reboot initiated. Contact with the biomass. Let's see if I can get this satellite operational. Let's see if I can get this satellite. This panel is sealed on deployment. I'll need to cut it open to access the power flow controls. Eh, ho capito, eh? Ho capito il chat. This switch designates the satellite's power source. It's currently set to draw from the solar panels. Oh... Oh... Eh, daia... quindi non posso vedere niente power settings, solar range, disk range, sensor, onboard, computer action system vabbè sembra che non posso fare niente altro eh vabbè sti cazzo cazzo giustizato so 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 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 7% 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 8% 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 9% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 10% 11% 10% 30% 10% 10% I can use the fury spotlight to get a clearer look at these markings Ti levi del cazzo? Hmm. Hera, could this be some form of writing system? Cross-referencing against all known written communication systems in the Atlas Interplanetary Database. No matches found. Assemble a table for lexical analysis. We need to keep moving. Acknowledged. Re-engaging thrusters on your input. Select your destination. Sell-referencing. Now it's heard a bit of funny. It's just one day, decided, I won't open testimony with no mood chiaro. If something piles are poor enough, I give it eighty-асть, I think Iyz. Alla prossima. Alla prossima. Proximity alert. Race for collision. E' un mese a corto. Questi sono schiantati pure l'ora alla fine. Non mi sembra questo grande vantaggio. Questi sono schiantati pure l'ora alla fine. Ho scudo reggio per fortuna. Malla che c'è. Ok, ma se non si ferma, voglio vedere questa sporcia. Ok. Grazie. 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 I've been left with little choice But to seek refuge aboard this This Unknown vessel That should protect me from the radiation Liv must have used this to find a way inside The area is heavily irradiated Oh shit I can't stay here Maybe I can get inside Right, Captain Rhodes Signing out Okay I can't wait for the army to get over No matter what, I can't stay there I can't wait for the army to get through Okay, I can't wait for the army to get out You can't wait for the army to get out La città è compromissata. I may be able to cut my way in. Curious. A control pedal, perhaps. No, vabbè. Come se lo tocchi e ti uccide, che bastarda. No, giant... Is that what will we do? Is that what will we do? I wanna control the connect-up. No! We're strong. No, ok. See, I'm going to be there. E che devo fare qua? Una sequenza? Ah, ok, si deve rompere, ok, ok. Eh, ma sto a fare cose senza sapere che cazzo sto a fare. Non so qua sotto che ci sta. Ah? Un culo. Vai, vai. Volapia. Volapia. Oh. Questo è incastrato. Ok. Mi sta incazzando. Non so, non so, non so. Allora Quattro è calo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non così bene. Un casinato. Ok, non si sta fermo. Vedete? Non si aggrappa bene. Ok. Tropezzo via. Ok. 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 Staccato tutti questi pezzi. Questa è la mia manca era qualcosa. Questa è la mia manca. 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 Un' Favorito di un'Axilliaria power supply, ma la biomass ha renderlo inoperable. Un'Ionice Fluid Reservoir,ucharged contact point, Most likely some kind of Power Cell. ok, una l'ho messa l'altra sala l'ho vista eh, ma la come faccio? vista la biomassa vabbè, però la si lo posso mettere eh, adesso che cazzo mi vento? coccolando che comodo con sta merda muoio eh questo c'è da anche aggiungere al divertimento aspetta un attimo ah, li devo mettere qua, allora eh, vabbè, non lo so non ho capito ah, possiamo andare direttamente di qua, dai eh, dai ah, c'è una specie di un po' di forza di merda vabbè, 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 dai scendiamo scendiamo ok, scendiamo eh proviamo un po' di qua ok 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 Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 No. Eh, dobbiamo... No. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That's too. bene ma guarda un po' le fortune della vita forse sarà la nostra nave del futuro che non so è evidente vedo il futuro assaggord i dati che si trattano non si trattano alcuni coda o lingua che si trattano in mio database ah vabbè ma se fai così allora non lo faremo mai sto gioco è un paio di coglioni la questo è similar la ok no indietro no 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 penso andiamo da sopra purtroppo spettacolo spettacolo Grazie a tutti. 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 . . a tutti. 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 buona buona io penso direttamente da di qua non credo nessun'altra parte 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 eh sì non credo nessun'altra parte 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 Oh 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 E' collegato qua Sembra nulla Non so Non so Non so Vabbè come cacchio stava? Stava centrata Allora facciamo Facciamo di là Che dove va? No Oh Merda Allora facciamo di là Allora facciamo di là No No Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non credo di riuscire ad attivarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io da lì vengo, quindi non capisco che senso c'è che tornino indietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, qua mi sono bloccato qualche puttana. Qua non so che cacchio fa. Proprio interrompe la corrente. Aspetta, no, aspetta. Aspetta. Sono fatti fuori quasi tutti. No, c'è sempre sta barriera. No, c'è sempre sta barriera. Non so... No, mi sono bloccato. No, mi sono bloccato. Non so doveva che fare. No, mi sono bloccato. 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 un bloccato. No, mi sono bloccato. ma ce l'ho fatta la bigono l'ho trovata era opzionale non so come entrare ragazzi credo che non lo faremo qua sempre la polizia maledetta inizio da figo adesso è un altro riballe ma via 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 tosionale via è un po' complication un po' merito grazie 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 ciao grazie 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 Ciao Questa è una buona Questa è una buona Nooo Nooo Ves'pona Nooo Nooooo Nooo 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 Grazie. Wow. Qua prezzi attiva. E' che figa. Foda attiva questa zona. E' che figa. No, no, no. Grazie a tutti. 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 No... 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 This is Captain Olivia Rhodes. I'm leaving this beacon for the record. On the off chance, someone finds this. So far I've found no sign of life here. Aside from the biological contaminant that's rendered the air unbreathable. That includes both human life and aliens. I can't believe I'm even saying that. But the technology on board doesn't match anything used by Atlas or the USN, so I have to consider the possibility. Though whoever's ship this is, they're long gone. Something catastrophically bad happened here. Enough to warrant evacuation. Anyway, with the air contaminated and no contact from Titan Command, I need to prioritise survival. If I don't find some clean air before my O2 runs out, all the speculation will be a moon point. Captain Rhodes signing out. Hopefully not for the last time. Even when I type to try, this place has been created. Turn away. Grazie a tutti. 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 Um... Laie... Oh, cool. Mi spiega che se viene a chiudere. Bye-bye. Awesome. Non si capisce cos'è questo cos'è qualcosa di energia, ma non so che tipo di energia. No... 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 ma posso andare sotto? non mi fa andare, scusate un po' bloccato posso di qua? il mio cortex è postato sotto ciò, guarda un'entrazione all'interno vi fa entrare? per favore l'ha pure detto è ancora un po' bloccato e anche extrazie ok all'interno puoi 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 Ok. Questo sembra come una interfaz elettronica. Puoi usare il tuo scannere per uploadare al terminal del retorno. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Upload complete. Rewriting modern curve protocols. Firmware instructions reset. Please seat the core back into my cortex. Logitech core repairs completed. Establishing new connection. Keep going. What sort of ship is this? I have no record of a spacecraft so heavily armed. I'm sorry Jack. The Astraea's tactical specifications are restricted. Patching neural net. Uplink successful. Restoring logic connections. There are more damaged cores. We'll need to replace them all before I can bring my systems back online. What function do you serve aboard the Astraea? I am in charge of tactical advisory, targeting and fire control systems. I am also in charge of managing emergency situations. And I am in charge ofiya'sätesteorp. I do not do that. We need to repair all my damaged logic cores before I can bring my systems back online. I can't believe it. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 che buco, che pasta, che palle non lo sta indicando su tutti i blu nessun lampeggiante al momento qua nulla ah no, eccolo qua no, 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 no cioè mi porta lì ma lì si toglie ahhh e farà sempre la stessa cosa ahhh 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 ecco qua il buco, il buco, il buco, il buco, il buco, il buco, maledetto buco, lì merda ok ok ecco qua ma ahhh 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 Ok. Ok. Ah, sapevo che era un casino. Ok. 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 Sì, non è stato l'arrangemane, Apollo. Tu dovresti aiutare me trovare Liv. Hai capito, Jack. Per il mio amico, ho bisogno di collegare con il sistema diagnozionale dell'estate. Ci sono necessitati di comandamenti di comandamenti. Il vostro obiettivo e i miei obiettivi aligni. Ho ristorto il potere per l'exito. In situazioni di emergenza, tutti i personaggi essenziali sono evacuati a un'estate di comandamentale. Deve dovremmo uscire lì. A presto delle informazioni di un prodotto. C'è un'escrizione di un prodotto. Avelli un'escrizione di un prodotto sul biologico. Sulla data delle informazioni di sue avevo. Based on my preliminary analysis, a weaponized superorganism, polymer-based synthetic, capable of consuming all carbon-based chemical structures. Physical contact with active material is not advised. To be continued... 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 To be... To be continued... To be continued... To be... To be continued... 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 To be... To be continued... 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 To be... 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 To... To be... 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 To... To be... 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 To... To be... 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 To... To be... 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 To... To be... 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 To... To be... 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 To be...